Il 23 settembre giovedì, buongiorno e bentrovati dall'informazione del mattino di Telemolise in regia Giovanni Spina. Apertura per la prima edizione del Tg sui dati Covid diffusi ieri sera dall'azienda sanitaria regionale. Su 304 tamponi refertati sono solo 5 i positivi, 3 di Montenero di Bisaccia e uno rispettivamente di Ripalimosani e Termoli. Tasso di positività all'1,64%. Da registrare anche 14 guariti. Scendono così a 160 gli attualmente positivi nella nostra regione. Non si registrano nuovi ricoveri né dimessi, nessun decesso. Le persone con Covid in cura al Cardarelli sono 6, 4 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Cambiamo argomento, parliamo di una protesta dei giudici onorari che chiedono tutele contrattuali. I magistrati onorari tornano a far sentire la voce e chiedono ancora una volta di essere tutelati da un punto di vista contrattuale. Per la Corte di Giustizia ci dicono i rappresentanti molisani della categoria. Siamo lavoratori a tempo determinato con le tutele previste ma lo Stato ancora non fa proprio questo orientamento. Di qui una nuova iniziativa. Sabato a Bologna un corteo fino al Santuario della Madonna di San Luca. A voler dire a chi dobbiamo rivolgerci ancora? Partirà dalla Corte di Appello di Bologna e si protrarrà per questi 5 km fino ad arrivare in collina dove c'è questo Santuario della Madonna di San Luca. Ci sarete anche voi dal Molise? Ci saremo anche noi dal Molise, ci saranno colleghi un po' da tutta Italia. L'iniziativa è stata promossa da Andrea Giberti che è gotta al Tribunale di Bologna e ci sarà anche Livio Cancelliere che ha fatto il cammino di San Francesco da Sisi a Roma a piedi ed è stato ricevuto ad agosto dalla Ministra Cartabbia. Ci sarà anche Francesco Moriggine, gotta al Tribunale di Sernia che ha accompagnato Livio per un paio di tappe nel suo cammino da Sisi a Roma. Nonostante le rassicurazioni del Ministro, sottolineano i magistrati onorari, ancora nessuna riforma e non è entrata in vigore la legge Orlando che dava comunque un minimo di tutele riguardo ad esempio fisso mensile e ferie. Ad oggi ancora nulla. Quello che chiediamo non è il riconoscimento del rapporto di lavoro con il Ministero. Non vogliamo essere equiparati ai giudici di carriera. Noi vogliamo soltanto le tutele che spettano a tutti i lavoratori, le minime, quelle che riconosce la Costituzione, le tutele giustlavoristiche e un trattamento economico adeguato al lavoro che svolgiamo. Noi non abbiamo maternità, non abbiamo ferie, non abbiamo una pensione. Quindi dopo 20 anni di lavoro che abbiamo fatto la maggior parte di noi per il Ministero, alla fine del nostro rapporto di lavoro non avremo niente, nessuna liquidazione, nessun diritto alla pensione, non avremo niente. La provincia di Campobasso ha concluso la gara d'appalto per i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 159 nel tratto svincolo di Casacalenda, zona industriale di Bonefro, meglio conosciuto come viadotto Bovara. I lavori sono stati finanziati dalla Regione per 2.350.000 euro. Dopo l'esecuzione delle verifiche e l'aggiudicazione definitiva dei lavori all'azienda, la provincia stipulerà il contratto. Entro il 2022 è prevista la consegna dei lavori. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della provincia di Campobasso, Francesco Roberti. A ottobre inizieranno i lavori per il nuovo campo sportivo di Larino. Intanto il sindaco Pino Pucchetti è soddisfatto anche dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti di una scuola e di una palestra del comune molisano. Ci dice di più in questo servizio Francesco Di Giacomo. Sentiamo. Inizieranno a fine ottobre i lavori per il nuovo stadio comunale di Larino, al culmine di un iter durato anni. Ad annunciarlo, oltre all'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Bonomolo, il sindaco Pino Pucchetti. Stiamo facendo di tutto per poter cantierare l'impianto, lo stadio di calcio e io penso che tra qualche settimana potranno partire i lavori. Quindi finalmente i giovani di Larino potranno avere uno stadio di calcio e c'è la possibilità anche di fare una pista d'atletica, quindi potrà essere utilizzata anche per altre attività sportive. Questo secondo me è importante. per la gestione dell'impianto. Abbiamo lavorato intensamente per far sì che la nostra comunità abbia un luogo che soddisfi le esigenze di tutti gli sportivi, fa sapere Bonomolo attraverso un comunicato stampa e l'approvazione della gara d'appalto per i lavori del nuovo campo da calcio è uno dei tanti traguardi importanti raggiunti della nostra amministrazione. Soddisfazione piena anche per l'installazione degli impianti fotovoltaici sulla palestra comunale di Via Santa Chiara e sopra l'edificio scolastico Alberto Magliano di Via Cuoco. Siamo riusciti a recuperare dei finanziamenti di mezzo milione di euro per realizzare due impianti fotovoltaici. Un impianto è stato realizzato sulla scuola, il plesso Magliano, scuola media e attuale liceo e mentre un altro impianto è stato realizzato in contrada Santa Chiara e sulla palestra comunale. Questi impianti ci permetteranno attraverso il regime scambio sul posto di poter compensare l'energia utilizzata in altri immobili di proprietà comunale e quindi avere un notevole risparmio per le casse del comune. Gli impianti, entrambi della potenza di circa 100 kilowatt, sono stati realizzati con i fondi europei di sviluppo regionale e possono produrre energia elettrica annua per oltre 250.000 kilowattora che corrispondono a un valore commerciale pari a 70.000 euro, quindi ossigeno per l'amministrazione comunale. Come amministrazione siamo estremamente soddisfatti e continueremo a muoverci per poter sfruttare al meglio i due impianti realizzati, conclude Puchetti, al fine di ottenere un risparmio di spesa per la collettività ed energia derivante da fonte rinnovabile. Ed ora uno sguardo al nostro palinzesto, nuova puntata della trasmissione Il Molisano, questa sera alle 20.50 su Telemolise. L'argomento è pasta fresca fatta in casa, pasta ripiena ma anche cottura a bassa temperatura. Tonino Danese ne parlerà con il titolare del pastificio Giglio, Claudio Giglio, con cui vedrà tutte le fasi della realizzazione artigianale della pasta fresca, mentre con Luca Palmiero scoprirà i segreti della cottura a bassa temperatura di prodotti rigorosamente freschi e molisani, una tecnica molto utilizzata adesso anche dai grandi chef. L'appuntamento dunque con Il Molisano questa sera alle 20.50 su Telemolise. Bene, con questa notizia ci fermiamo con la prima edizione del Telemolise.it, in evidenza il Covid, con i dati 5 nuovi positivi su 304 tamponi refertati, 14 guariti. Poi si parla anche di mafia, in particolare del rapporto della direzione investigativa antimafia, Foggia, Emergenza Nazionale e il Molise a rischio. La cronaca, trovato con 85 grammi di eroina, la squadra mobile arresta un trentenne di Campobasso. Su futuro Molise c'è la sanità, maglia nera, quella molisana, i LEA, livelli essenziali di assistenza, sotto la soglia minima ma continua il taglio dei reparti. A proposito di sanità ci sono i dati dei contagi in Molise con 5 nuovi positivi e c'è il bollettino dilamato dall'azienda sanitaria regionale. Ci spostiamo adesso su primo piano, terza dose, disguidi e proteste. Dunque, convocati via sms, diversi utenti sono tornati a casa e senza somministrazione. L'azienda sanitaria ha un'amnesi fondamentale per accertare chi può ricevere il vaccino. La classificazione delle patologie si basa pure sui dati forniti all'atto dell'iscrizione, in qualche caso inattendibili. Poi c'è anche il bollettino, abbiamo visto 5 contagi e 14 guariti, fornelli, scuole chiuse e il 26 ci sarà un test di massa. Restiamo in ambito sanitario. Gemelli, ieri il Consiglio di Amministrazione si allungano i tempi della cessione, si parla chiaramente della struttura sanitaria di Campobasso. Anche qui, i livelli essenziali di assistenza, male anche la sanità animale. Arriva l'allarme da parte della Will. Gli altri titoli, di spalla, il rapporto della Direzione Investigativa Antimafia, Molise, stretto tra mafia foggiana e camorra. Boiano e comunità Roma, sotto i riflettori. Altri titoli, dal Basso Molise, 28 mila litri di gasolio di contrabbando diretti a Malta, tir sequestrato e autista denunciato. Viene da Campobasso, transenne spazzate dal vento, cappelle allagate, sterco, degrado al cimitero. Il punto, porta la firma del direttore Luca Colella, gravina lo stadio e quel pericoloso scarica a barile. Per lo sport, lo stadio di Campobasso, a proposito, oggi Nuova Lignone per decidere sul raddoppio della capienza. Intanto in Coppa Italia, il Vasto Girardi ne fa tre al Matese e accede ai 32esimi di finale. Infine un appuntamento di Sitting Volley a Campobasso, la tre giorni di Silver League. Ci spostiamo adesso sui quotidiani nazionali, iniziamo con il Corriere della Sera. Sì, al Green Pass, ecco tutte le regole. La carta verde diventa obbligatoria anche per i deputati. Ora parola alla Senato. Tanto Draghi annuncia 45 milioni di vaccini ai paesi poveri. Voto alla Camera, ma nella Lega 51 assenti. Salvini, c'è libertà. Qualcuno è a disagio? Buona fortuna. Foto centrale. Lo zio di Saman, tradito da un neo, è stato arrestato a Parigi e era senza documenti, riconosciuto durante un controllo. La Repubblica, Green Pass, Lega, Pezzi, apertura dunque sul Green Pass e politica. Metà dei parlamentari diserta il voto. Salvini parla di libertà di scelta e sulle comunali va allo scontro con Forza Italia. Draghi all'ONU, fermiamo le diseguaglianze. E poi l'annuncio, l'Italia donerà 45 milioni di vaccini per i paesi poveri. Leggiamo sempre su Repubblica, contro il Covid, agli anziani, terza dose assieme all'antinfluenzale. Foto centrale, rubato dai talebani l'oro di Alessandro Magno a Kabul, il tesoro scomparso. Vedete qui nella foto. E poi l'intervento del governo per frenare il caro bollette. Si parla degli aumenti di gas ed elettricità. Il governo sta correndo ai ripari. Ci spostiamo sulla stampa, tridico subito il salario minimo. C'è un'intervista al presidente dell'Inps, esonero, contributivo alle mamme che rientrano dalla maternità. Tanto sì al decreto Green Pass, 51 lighisti assenti. Salvini abbiamo visto, ha detto, sono liberi. E Di Maio lo accusa dicendo che è ambiguo. Clicchiamo anche il coiano di Torino, la stampa, per passare a libero. Onorevoli, scrocconi è il titolo di apertura. Non si pagano i tamponi. Green Pass per entrare alla Camera, ma i test anti-Covid sono a carico del fondo parlamentari. Follia, Montecitorio, vota per mettere il bavaglio ai virologi in TV. Questa notizia, a dire il vero, sta circolando già da ieri e con ampia eco. Il sole 24 ore, in basso il processo penale, sì alla riforma, stop ai giudizi che durano troppo. Fiducia al Senato sulla delega, più rigore sull'azione penale, incentivati i riti alternativi. Dal quotidiano di Confindustria, adesso al Fatto Quotidiano. Vaccini, Big Pharma, incassa 31 miliardi in più. Euro regalo, il racconto di uno dei sette negoziatori dell'Unione Europea. Parla di profetti nascosti, scrive dunque il coordinato di Travaglio. Ecco come abbiamo strapagato Pfizer, più 1838%, e Moderna, più 794%. Le peripezie delle ONG per avere i conti dall'Europa. Guardava la messa rapito dai talebani, è il titolo che apre l'edizione di oggi di Avvenire. Il racconto di una famiglia cattolica afghana, rifugiata in Italia, ieri accolta dal Papa. I 14 cristiani salvati da un volo militare. Catena di solidarietà tra Kabul, Roma e Bergamo. Andiamo più in basso, vaccini, alleanza Stati Uniti, Unione Europea aumentano le donazioni. Biden e Draghi spingono l'iniziativa, ma non si va oltre il dono. Questo termine messo tra virgolette. Brevetti non toccati. Ora il manifesto, la scuola è secondaria. Vediamo perché. Secondo il quotidiano comunista, la denuncia di cittadinanza attiva, 16.909 aule insicure e invivibili. Oltre la metà sono nelle superiori e quasi il 60% degli istituti non è a norma. L'emergenza è stata creata dalla politica e la conseguenza diretta dei tagli imposti dalla legge Tremonti-Gelmini del 2008-2010. Passiamo al mattino. Di Napoli, in alto c'è il Covid, il muro dei vaccini ha fermato la variante Delta, ma noi ci spostiamo a centro pagina. Perché non ci avete detto che quell'uomo era pazzo? Si parla chiaramente dei funerali del piccolo Samuele. La famiglia dice che nessuno sapeva di questo problema. Sulla destra, armi dall'Iran, Napoli, arsenale delle mafie dell'Unione Europea. Unione Europea è crocivia della rotta balcanica. Kalashnikov e pistole a prezzi stracciati sul mercato nero. Dal mattino al Tempo di Roma, che apre con questa notizia, Pfizer ha pure la pillola. Buoni risultati dalla sperimentazione di un antivirale già utilizzato per l'HIV. Può essere la cura al Covid. Chiudiamo anche il quotidiano capitolino per passare alla verità. Arriva il bavaglio di Stato sul Covid. Abbiamo letto pure su qualche altro quotidiano. E poi dicono che non c'è la dittatura sanitaria. Ordine del giorno impegna il governo, che approva ad attivarsi perché in TV, alla radio e sui giornali, parlino solo medici autorizzati dalle strutture da cui dipendono, pubbliche o private. In pratica potere di censura speranza, si legge sulla verità. Si arrabbia pure Galli, che definisce questa cosa grottesca. Più in basso, a scuola parte la caccia al non vaccinato. Il garante denuncia il pressing sugli alunni per poter togliere la mascherina. Ma quella norma è una fake news di Bianchi, la cui app viola la privacy, aggiunge la verità. E adesso la gazzetta dello sport, l'abbraccio del diavolo. Il Milan aggancia l'Inter in attesa del Napoli. Fatica col Venezia. Diaz e Hernández aprono la strada per la vetta. 2-0. Teo, l'obiettivo è lo scudetto. Leggiamo ancora, intanto stasera a casa della Samp, contro sorpasso. Spallesti ci prova con Osimen e Kulibari. Di spalla, Allegri all'Inferno e ritorno. Chiesa e Delict lo salvano e si dimostrano da Juve. Ma i problemi rimangono. Altra notizia, oggi Torino-Lazio, giallorossi con le udese. Iuric alla prova a Sarri, sfida tra comandanti. Murigno ricarica la Roma. Bene, con lo sport come sempre terminiamo il primo appuntamento con la nostra informazione. Vi ricordo alle 14 in diretta la seconda edizione del Telegiornale. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.